Meteo allerta arancione anche domani per VCO in Nuovarese, aperta la sala operativa di protezione civile. Indirittura d'arrivo l'accordo per mantenere la produzione del crodino in valle Antigorio, notizie positive anche sul fronte occupazionale. Un vaffa alla polizia non è reato, lo ha stabilito a Verbania la sentenza del giudice Donatella Banci Buonamici. A Stresa il primo consiglio comunale del nuovo sindaco Marcella Severino ha invitato alla collaborazione e al dialogo. Il 26 ottobre parte in Piemonte la campagna vaccinale antinfluenzale, ha acquistato il 50% delle dosi in più rispetto all'anno passato. Domenica alle 16 al Teatro Maggiore il via la stagione di Verbania Musica con il quartetto Le Touillet. Ben ritrovati dalla redazione di VCO, notizie in apertura di giornale Il Maltempo, aperta la sala operativa di protezione civile del VCO e allerta arancione anche per la giornata di domani. Allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico nel VCO in Nuovarese anche per la giornata di domani. Lo riferisce Arpa Piemonte e il rischio è quello di allagamenti e innalzamenti dei corsi d'acqua con esondazioni e attivazione di fenomeni diversante. Il livello del Lago Maggiore sarà in crescita nelle prossime ore di oltre un metro, rimanendo comunque al di sotto dei livelli di guardia. L'avviso pubblicato da SMI, Società Meteorologica Italiana, nell'aggiornamento sull'ondata di maltempo che sta colpendo il Piemonte, riferisce che dal Biellese all'Osla potrebbero cadere fino a 4-500 mm di pioggia, tra oggi e domani. È un accumulo, spiega SMI, con un potenziale alluvionale anche in un'area come il Piemonte settentrionale, geomorfologicamente abituata a precipitazioni abbondanti. Su tutta la fascia alpina e piede montane, in 24-36 ore, sono attese precipitazioni superiori a 200-300 mm. La quota neve oggi è a 3.000 m, domani scenderà a 2.000-2.200. Intanto da oggi, accanto a quella regionale, è aperta anche la sala operativa provinciale della protezione civile. Siamo attivi, i mezzi sono pronti, ma al momento non si segnalano particolari criticità, afferma Stefano Barassi. Un incidente stradale sulla Cursia Nord dell'autostrada, a 26 tra i territori di Brovello, Carpugnino e Baveno, ha provocato code lunghe sino a 5 km, è accaduto alle 16 di oggi e ha visto coinvolte più vetture. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, un'ambulanza medicalizzata a 118, due pattuglie della polizia stradale, distanza a Romagnano Sesia e alcuni carri attrezzi per il recupero delle vetture incidentate. Non si hanno notizie di feriti gravi, ma solo lesioni. La società autostrade, per chi non era ancora giunto nel tratto dell'incidente, ha disposto l'uscita obbligatoria a Meina e il reingresso a Baveno. E sempre a causa di un incidente, nel tardo pomeriggio di oggi provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud della superstrada ad Anzola d'Ossola, l'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante senza causare feriti. Cautottimismo sulla permanenza della produzione del crodino in Valle Antigorio. I notizie positive arrivano anche dal fronte occupazionale. Sentiamo. Fasi delicate e ultime battute nella trattativa tra Campari e Royal Unibru affinché la produzione del crodino continui in Valle Antigorio. L'accordo sarebbe addirittura d'arrivo e quanto i rappresentanti delle due società hanno dato agli amministratori e sindacalisti del VCO nell'incontro promosso ieri dalla provincia al Tecnoparco. Parole che fanno dire al sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, c'è oggi in me un cauto ottimismo. Lo spauracchio del 31 dicembre, come data ultima per la produzione dell'analcolico biondo a Crodo, sembra allontanarsi. Entro qualche settimana Campari e Unibru comunicheranno i dettagli dell'intesa. Notizie positive intanto arrivano anche dal fronte occupazionale. La danese Royal Unibru ha annunciato l'avvio di nuove produzioni. Si tratta di bevande testate sul mercato nord-europeo, dove hanno avuto un buon successo. Questo assieme alla riscoperta di vecchie produzioni come il Chinotto e l'Acquatonica, abbandonate da Campari nel corso degli anni, ha portato il gruppo danese a incrementare i livelli produttivi. Nel corso dell'incontro, il comune di Crodo e l'Unione Montana Alta Ossola hanno caldeggiato il progetto di riavvio delle terme e soprattutto la mescita delle acque e la sistemazione dei giardini del parco. Royal Unibru è parsa possibilista, anche se sono in corso valutazioni, poiché il tutto comporta investimenti importanti. Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Regione Piemonte. Nel VCO 5 nuovi positivi e un nuovo guarito, nel Novarese 27 nuovi positivi e 7 nuovi guariti. A livello regionale ben 219 nuovi positivi, dei quali però viene specificato 58 sono riallineati, riferiti alla giornata di ieri. Un decesso nelle ultime ore e 44 nuovi guariti. Un ricoverato in più in terapia intensiva, 13 in totale, 14 ricoverati in più nei reparti ordinari, 217 in totale. La cronaca giudiziaria. Un vaffa alla polizia non è reato. La sentenza verbania. Il processo vedeva imputato un cittadino marocchino residente ad Arizzano. Un vaffa alla polizia non è reato. Lo ha stabilito una sentenza del giudice Donatella Banci Buonamici al termine del processo che vedeva un marocchino difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli imputato di oltraggio e minaccia pubblico ufficiale. Il fatto risale a luglio del 2018. L'imputato, un 32enne residente ad Arizzano, si trovava all'esterno di un locale in via De Bonis a Intra. Vedendo passare una pattuglia della volante impegnata in un controllo, aveva rivolto loro la frase Polizia Vaffa. Gli agenti lo avevano portato in questura per identificarlo e lui aveva detto ve la faccio vedere io, sostenendo di non aver commesso alcun reato e che si sarebbe rivolto al suo avvocato. Era stato denunciato per oltraggio e per minaccia pubblico ufficiale. Al termine del processo il PM aveva chiesto l'assoluzione per oltraggio e la condanna a sei mesi per minaccia. L'avvocato Pipicelli nel ricordare come l'espressione fosse in quel contesto al più espressione maleducata e volgare, ricordando come Masini intitolò una canzone negli anni 90 e citando il V-Day di Beppe Grillo, non costituendo in quelle specifiche circostanze oltraggio perché i poliziotti non stavano compiendo un atto d'ufficio. Quanto alle espressioni usate dall'imputato in questura, queste erano espressioni di protesta per essere stato denunciato per un reato che non riteneva di aver commesso e non idonee a costringere i poliziotti a non redigere il verbale di identificazione e informazione di garanzia. Tengo a precisare, dichiara Pipicelli, che l'espressione utilizzata dal mio assistito in altri contesti può certamente costituire oltraggio e benché giustamente il mio assistito sia stato in questo caso assolto perché in quel contesto la sua espressione non fu oltraggiosa, ciò non porta a condividere il fatto che tali espressioni debbano utilizzarsi, nonostante da tempo a più livelli si rileva un involgarimento del linguaggio. Ed ora andiamo ad Arona per il punto sulla statale 33 chiusa. Nell'esito delle prime indagini è emerso che il cedimento del muro è stato causato dalle infiltrazioni di acqua dovute al maltempo delle ultime settimane, che hanno determinato una conseguente situazione di stabilità della struttura in muratura di sostegno alla statale. I personali tecnici ANA sono presenti sul posto da metà settembre per l'esecuzione di interventi atti a mitigare l'effetto erosivo delle acque del Lago Maggiore. Ultimate le necessarie verifiche, sarà redatto il progetto di ricostruzione del muro. La statale resterà chiusa al traffico sino al ripristo delle condizioni di sicurezza. L'ex sindaco Alberto Gusmeroli ieri parlava di almeno tre mesi. Il traffico leggero è deviato sulla viabilità comunale, mentre il percorso alternativo per i mezzi pesanti è costituito dall'A26 tra Arona e Baveno. A novembre 2019 si era registrato già un vistoso avvallamento su un tratto prossimo a quello dove si è verificato il cedimento attuale, che aveva già allora messo in dubbio la solidità del muraglione. I rilievi proseguiranno nei prossimi giorni, con l'interiore prove necessarie a definire le ipotesi progettuali di intervento. Intanto la società autostrade ha garantito che non saranno effettuate manutenzioni e chiusure sulla A26 del tratto che attraversa il vergante sino al completo ripristino della circolazione sulla SS33. Andiamo a Stresa dove ieri sera c'è stato il primo consiglio comunale del nuovo sindaco Marcello Severino. È iniziata ufficialmente ieri sera con il giuramento di fedeltà alla Costituzione e l'amministrazione di Marcello Severino. La neo sindaca ha invitato sia i gruppi di minoranza che i cittadini a instaurare un rapporto di collaborazione e di dialogo per il bene della città. Ha ricordato sinteticamente i punti del suo progetto per Stresa, dalla trasformazione del lungolago in un giardino a nuovo evento per il Natale che dovrà prolungare la stagione turistica alla nuova illuminazione pubblica. Qualche nota polemica nell'intervento del capogruppo di grande Stresa, Canio Di Miglia, che ha augurato buon lavoro a Severino ma ha criticato la nomina dell'ex sindaco Giorgio Di Verio come assessore esterno. Il sindaco deve fare il sindaco e non farlo fare ad altri che non sono stati eletti, ha detto Di Miglia, che ha poi assicurato collaborazione e la volontà di cercare di portare avanti gli obiettivi cari al proprio gruppo presentati in campagna elettorale. Le nomine della giunta si basano sulla fiducia del sindaco nei confronti degli assessori, ha replicato Severino, ho voluto affidare temi importanti come urbanistica e lavori pubblici a una persona esperta e preparata, ci giudicherete andando avanti negli anni in base a quello che faremo. L'ex sindaco Giuseppe Bottini ha invece fatto gli auguri alla nuova amministrazione perché possa terminare tutto quello che non gli è stato possibile concludere nei precedenti cinque anni. Vi auguro cinque anni di buon lavoro, non come quelli che ho passato io, dato che me ne sono capitate di tutti i colori. Di Miglia ha voluto ricordare l'ex vice sindaco Romano Aguzzi, recentemente scomparso. Ero d'ora, torniamo sull'ultimo Consiglio Comunale di Domodossola con le dimissioni del Presidente Valentini. Nella prossima seduta i consiglieri comunali di Domodossola sapranno eleggere una persona corretta che non abbia impegni di lavoro e soprattutto di altro. È breve e pungente, allo stesso tempo, il commento del sindaco Pizzi alle dimissioni di Carlo Valentini, da Presidente del Consiglio Comunale. Il primo cittadino domese è atteso un giorno per dire la sua su quanto è successo l'altra sera. Parla, ma lo fa con la mare in bocca, di chi ha subito un torto inatteso. I ruoli istituzionali, aggiunge infatti Pizzi, non sono bus che si prendono quando conviene e si lasciano per gestire al meglio la campagna elettorale, libero da vincoli come dichiarato dall'ex Presidente ad alcuni organi di informazione. Parole affilate, come una lama tagliente. In questo clima, nelle prossime settimane, il Consiglio Comunale si riunirà per scegliere chi succederà a Valentini. Nessuna indiscrezione trappera al momento. Unica voce alzatasi oggi è quella del PD che dice no ad un nuovo Presidente. Bolognini e Mauro chiedono si vada avanti con un facente funzioni, ovvero il consigliere anziano. Non indaghiamo oltre sulle beghi interne alla Lega, scrivono i dioe. Ora ci preme andare oltre in un periodo difficile come questo, con la pandemia che ha ripreso galoppare, la crisi economica e i problemi legati alla movida ai quali siamo chiamati a dare una mano, se interpellati. È stata riavviata lo scorso 23 settembre all'ospedale di Verbania l'attività di chirurgia ambulatoriale oculistica complessa con un intervento di cataratta, una seconda seduta a mercoledì scorso. Era dal 2011 che a Verbania non venivano più eseguiti interventi di chirurgia oculistica. Questa nuova attività segue di pochi mesi la cura della maculopatia che ha avuto inizio a Verbania a ottobre 2019. Si è concordato un avvio graduale, dal mese di ottobre sarà aumentato il numero di giornate di interventi, sperando con l'assunzione di nuovi oculisti di poter programmare l'attività 5 giorni su 7, così come avviene a Domodossola. Riportare a Verbania l'attività di chirurgia oculistica è stato fin dall'inizio obiettivo della Direzione Generale, permetterà un'importante riduzione delle liste di attesa nell'Asla VCO per la chirurgia della cataratta. Ad oggi circa 1.500 persone per 14 mesi di attesa. La socio-oculistica dell'Asla vede a Domodossola il successo dell'attività di chirurgia corneale e trapianto. Eseguiti da luglio 2019 ad oggi 40 trapianti corneali e cura del cheratocono. Prossimamente con l'acquisto della tecnologia necessaria sarà avviata la chirurgia vitrio-retinica. Ed ora parliamo di vaccinazione anti-influenzale in Piemonte e la campagna parte a fine mese. La vaccinazione anti-influenzale in Piemonte partirà lunedì 26 ottobre e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre 2020. Lo annuncia la Direzione dell'Assessorato Regionale della Sanità del Piemonte, comunicando ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che a partire dal lunedì prossimo 5 ottobre potranno effettuare la prenotazione delle prime dosi presso qualsiasi farmacia. L'Assessore Regionale della Sanità del Piemonte ricorda che la Regione ha approveduto per tempo, fin dall'aprile scorso, all'ordine di oltre un milione di dosi di vaccino, vale a dire il 54% delle dosi in più rispetto a quelle utilizzate l'anno scorso, con l'intento di allargare il più possibile la platea degli utilizzatori e facilitare così l'emergere delle diagnosi Covid che, appunto, potrebbero essere condizionate dai medesimi sintomi dell'influenza stagionale. Il vaccino anti-influenzale, disponibile per la campagna di vaccinazione 2020-2021, è il Vaxigrip Tetra, inattivato tetravalente, disponibile in maggior quantità in formato monodose. La prima tranche di fornitura è di 400.000 dosi, alla quale seguiranno altre tre tranche nelle settimane del 2, del 9 e del 16 novembre. Voltiamo pagina, presentato alle scuole medie e bagnolini di Villa Dossola, il bando del premio Infopoint, Leggere le montagne 2020, il concorso di narrativa rivolto ai ragazzi delle scuole del VCO. Un'occasione per puntare l'attenzione sul tema della montagna, ma anche per celebrare Gianni Rodari a cent'anni dalla nascita. Grazie ad Arsuni VCO e alla Convenzione delle Alpi, riusciamo anche quest'anno ad indire il concorso letterario, Leggere le montagne, nel quale i ragazzi dovranno scrivere alcuni testi che poi verranno giudicati da una giuria importante di scrittori e autrici del nostro territorio, del verbano Cuseo-Ossola. E quindi il mio augurio, in quanto madrina di questo concorso letterario, è ai ragazzi di divertirsi a scrivere come noi ci divertiremo a leggere i loro racconti. L'ufficio scolastico del VCO patrocinia Leggere le montagne 2020-2021, questo bellissimo progetto che si rivolge alle scuole secondarie di primo e di secondo grado della nostra provincia. L'ufficio scolastico patrocinia e promuove questa attività, un'attività estremamente interessante che promuove la letteratura di montagna e allo stesso tempo sensibilizza all'ambiente, ai temi dell'ambiente. I ragazzi dovranno realizzare dei temi inediti, dei lavori inediti che saranno sicuramente, come ogni anno, di grande valore. La presentazione dell'iniziativa, inizialmente pensata in remoto, è stata invece fatta in presenza a Villa D'Ossola, nel rispetto delle norme anti-covid, per non rinunciare alle cose belle e utili per gli studenti anche in emergenza sanitaria. Un messaggio di fiducia ancora più forte perché arriva dai locali di una scuola, la stessa dove lo scorso anno scolastico era stata fatta la cerimonia di consegna delle patenti di smartphone, con il videomessaggio del ministro Lucia Zolina. Il tema di quest'anno del premio è il centenario della nascita di Gianni Rodari. I partecipanti al concorso vedranno pubblicati i propri racconti in un'edizione cartacea, in cui sarà utilizzata la fonte ad alta leggibilità. Domenica 4 ottobre, Domo D'Ossola ricorda il 76esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola, risperimento di autogoverno che ebbe luogo nel settembre-ottobre del 44, riconosciuto a livello internazionale come primo esempio di democrazia. Nel rispetto delle norme anti-contagio si terrà una cerimonia sobria, ma carica di significato. commemorazione con inizio alle 10.30 con ritrovo in piazza Matteotti presso il monumento dedicato alla resistenza. L'orazione ufficiale è affidata allo storico e saggista Giovanni Cerutti. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il premio Repubblica Partigiana dell'Ossola, che quest'anno viene conferito allo storico elvetico Raffaele Rues per aver contribuito attraverso un'instancabile attività di ricerca a diffondere in Italia e all'estero la conoscenza delle vicende della Repubblica dell'Ossola, di Domodossola e del territorio ossolano durante la lotta di liberazione. Domenica alle 16 nella Sala Blu del Teatro Maggiore di Verbania il primo concerto della stagione 2020-21 di Verbania Musica. È possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso la libreria Alberti di intraprezzi. 80 euro l'intero e 65 ridotto per i nuovi abbonati. Per i vecchi abbonati alla stagione 2019-2020 il prezzo è di 50 euro. Abbiamo voluto dare proprio un segno positivo alla città e anche alla provincia della quale speriamo partecipino. Per proporre un programma ricco che comincia il 4 ottobre, prosegue a 8 novembre, a dicembre, poi 2 gennaio, 2 febbraio e 2 a marzo, sperando che tutto vada bene. Non volevamo fermarci, abbiamo avuto tanti ripensamenti, abbiamo tanto discusso, però alla fine abbiamo steso il programma e tutti gli artisti che abbiamo interpellato hanno accettato di suonare e per noi di questo siamo contenti e li ringraziamo, oltre che essere orgogliosi. Che cosa ci aspetta domenica? Allora, domenica innanzitutto inauguriamo la stagione con il quartetto Lo Trouillet, che è diretto tra l'altro dal nostro nuovo direttore artistico, che è il maestro Antonello Molteni. È stato violinista della RAI e per tanti anni nell'Orchestra Sinfonica Nazionale, accettato con molta generosità, molta disponibilità, della quale ringraziamo di farci da direttore artistico, dopo l'improvvisa morte del maestro Antonello Gotta. Questo quartetto ci propone i quartetti di Mozart in forma integrale. Sono quattro quartetti, il K285A, B e C e il 298. Perché partecipare ai vostri concerti? Perché è musica classica, direi nel vero senso della parola. Facciamo anche qualche cosa di jazz, però lasciamo questo campo ad altri che sono più bravi, più esperti di noi. Noi ci limitiamo proprio alla musica classica perché abbiamo visto che un buon numero di verbanesi, e come per verbanesi intendo tutta la provincia del VCO, apprezza questi concerti. E sempre domenica torna l'isola Pescatori, ma sentiremo non solo gente di lago, una Kermess necessariamente rivista a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Sentiamo il presidente dell'associazione, lo chef Marco Sacco. Terzo appuntamento di gente di lago, domenica 4 ottobre, sull'isola dei Pescatori. Beh, ci saremo anche nonostante tutto il lockdown e tutto il virus che gira ancora. Ma come? Con una formula un po' diversa. Abbiamo lasciato la libera entrata, quindi non abbiamo creato nessun tipo di problema e abbiamo rispettato tutte le regole che sono fondamentali in questo periodo. E quindi abbiamo chiesto ai ristoratori sull'isola Pescatori, ma anche ai ristoratori attorno al lago, quindi nel VCO, di preparare, di dedicarci un piatto di pesce di lago e di brandizzarlo gente di lago e che diventi un po' il nostro simbolo di questa manifestazione del 2020. Ecco, potremmo fare solo quello. Noi ci saremo, io ci sarò, racconteremo i progetti che abbiamo fatto, i progetti del futuro e daremo appuntamento per un anno migliore, sperando che tutta questa situazione sia sotto controllo o addirittura l'abbiamo superata e quindi per il 2021 con una doppia grande festa sull'isola dei Pescatori. Per intanto accontentiamoci così che va bene. A presto, a domenica. Ciao, ciao. E siamo allo sport con la canoa dopo gli straordinari risultati ottenuti agli italiani dell'idroscalo. La polisportiva a Verbano non poteva che replicare con ulteriori successi ai regionali che si sono ottenuti nel passato fine settimana. Dopo gli straordinari risultati ottenuti agli italiani dell'idroscalo, la polisportiva a Verbano non poteva che replicare con ulteriori successi ai campionati regionali svoltisi nel passato fine settimana. Spaventoso il bottino ottenuto con la bellezza di 32 medaglie d'oro, 28 d'argento e 8 di bronzo. Questa volta anche i tecnici verbanese, solitamente e giustamente incontentabili, hanno dovuto fare i complimenti dovuti e sinceri a tutta la battuglia presente a Milano. I trionfi sono stati molteplici. La polisportiva ha vinto sulle distanze più brevi, in campo maschile e femminile, nelle kayak e con la calanese, bene i singoli, ma anche il K2 di K4 a riprova di una intesa in continua crescita in acqua tra i vari atleti. I trionfi sono arrivati in tutte le categorie, ragazzi, allievi, cadetti, junior e senior. Ormai in archivio una stagione difficile perché è condensata in poche settimane, con una preparazione stravolta e tutta da inventare, con le uscite in barca che sono stati logicamente minori rispetto al passato. La speranza espressa recentemente dai vertici della società verbanese è che quella prossima possa essere una stagione il più possibile normale e se così fosse, la polisportiva Verbano è pronta e motivata per scalare altri gradini e per ottenere ancora più vittorie e podi in tutte le gare cui prenderà parte. Ed ora il basket con la cronaca dell'amichevole della Paffoni contro Reale Mutua Torino che si è tenuta al Pallabagnella. Per tre quarti, quasi alla pari, con la favorita numero uno alla promozione in Serie A1. È stato un test amichevole decisamente positivo quello affrontato ieri al Pallabagnella dalla Paffoni. I rossoverdi contro la Reale Mutua Torino nei primi 30 minuti, con il punteggio azzerato da ogni sirena, hanno tenuto vota allo strapotere fisico e tecnico dei ragazzi di Coscavina che hanno messo in mostra tutte le loro riconosciute qualità. Ma la Paffoni, con un Balanzoni molto ispirato e motivato, con un Prandin protagonista su entrambi i dati del parquet, con un atteggiamento collettivo d'applausi, ha lasciato vedere aspetti davvero incoraggianti. Ultimo quarto, invece, con la Reale Mutua che ha dominato, con tanti esperimenti e con la stanchezza che ha preso il sopravvento. È stata una partita amichevole, che di amichevole ha avuto poco, perché ci sono trovate in campo due squadre molto fisiche, forse su alcune cose già più avanti di quello che può essere il periodo di preparazione. Ringrazio Torino che è venuto a concederci questo allenamento, che a noi è servito molto, e sono convinto che, visto che la mia squadra non ha mollato un centimetro, sono convinto che anche noi siamo stati allenanti nei loro confronti. Dei miei mi è piaciuto l'atteggiamento, il non mollare nelle difficoltà contro una squadra molto forte. Abbiamo trovato anche delle difficoltà a cui non eravamo abituati. Nel momento in cui Torino ha allentato un po' la presa difensiva, si è visto anche sprazi di bel gioco. Difensivamente, sulle cose sulle quali avevamo lavorato, siamo andati abbastanza bene, per cui dico che è una buona amichevole, un buon allenamento, che ci lascia tanti spunti positivi per poter lavorare nei prossimi giorni. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, vcoazurativi.it e le nostre pagine social per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!